Vi parla Pierluigi Pardo dallo Juventus Stadium, è tutto pronto per il match di oggi. Pronti a vivere le emozioni della sfida tra Juventus e Roma. È stato protagonista di alcune prestazioni eccellenti davvero nelle ultime partite, la sua presenza in campo dà fiducia e stimolo ai compagni. Primo pallone dell'incontro che è per la Roma. Ottimo intervento in copertura. Marchisio. Star Ridge. Arbitro che fischia il pallo. Stroopman. Ashley Cole. Cervigno. Serve il compagno numero... Florenzi. Parte il tiro. Attenzione, la palla è lì. Sarà rimessa laterale per il giallo-rosso. Attenzione! E c'è la grande parata. Si è fatto ipnotizzare dal portiere. Tevez. Buono il contrasto, recupera il pallone. Star Ridge. Attenzione! Occhio al cross per Star Ridge. Prova a sorprenderlo. Il difensore spazza in quadro. Buono il colpo col tacco. Star Ridge. Star Ridge salta bene il difensore. L'arbitro concede. Rimessa laterale per la Juve. Ecco il tiro. Poppa! I gol di Poppa! Poppa! L'ha messa alle spalle del portiere. Goti fisiche, tecniche straordinarie. Dovano pagare molto di lui in futuro. Si ricomincia. De Rossi. Strohmann. Occhio al suo movimento. Vediamo che decisione prende l'arbitro. Arriva l'intervento dell'arbitro. E qui. Chiaramente. Cartellino giallo per il giocatore della Juve. Mi trovo d'accordo con la decisione dell'arbitro. Parata spettacolare. Intuffo per il portiere. Va. Pirlo. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Tevez. Florezio. Sarà calcio di punizione contro la Roma. E l'arbitro sta in cartellino. Giallo. Giallo. C'era da aspettarselo. In questo tempo. Squadre che tornano negli sfogliatoi. 1-0 alla fine della prima frazione. Speriamo che la partita si possa vivacizzare. Siamo pronti per la ripresa. La Juve fin qui avanti nel punteggio. Ha riuscito facilmente a superare il marcatore. E questo non è un buon lavoro difensivo. Pericolo. Pericolo. All'accomoda per il difensore. Marchisio. Crossa. Occhio al croco per Sturridge. Sturridge. E qui il portiere è davvero super. Ballone che finisce in angolo. Si ripartirà dunque col calcio di punizione per la Juve. Giocatori in barriera provano a guadagnare qualche metro. Giocatori in barriera vengono fatti arretrare dall'arbitro. Buona l'idea. Senza problemi però il portiere. Marchisio. Sturridge. Pogba. Cole. La risolve lui. Calcio di punizione a favore della Roma dunque. Alleratore. Cambiare la storia di questa partita. Giovinco. Prova in porta. Attenzione. Rete. L'allenatore gli ha dato fiducia. Lui l'ha ricambiata nel migliore dei mondi. Hanno incrementato. Stroopman. Trova il compagno. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Partiglia bene il pallone. Stroopman. Si contendono. Si ripartirà dunque col calcio di punizione per la Juve. Recupera bene il pallone. La mela. Sta provando a stringere i denti. Cerca di rimanere in campo. Vediamo se c'è qualche movimento in pachina. Andiamo da Matteo Barzaghi. Ha preso una botta al gomito. Sembra dolorante Piera. Ma penso che... Romulo. A metri a disposizione. Portiere che blocca senza problemi. Marchisio. Bravo a intercettare questo pallone. Non era facile. Giovinco. Salta il difensore. Magnifica chiusura difensiva. Sarà calcio di Puliziane contro la Juve. Nessun dubbio per l'arbitro. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Ottima la chiusura difensiva. Esce e recupera il pallone. Oggi non l'espera di più. Pallone infine. Grazie.